Maestro, con che occhio si appresta a guardare queste opere, questi fotografi così che hanno voluto immortalare una manifestazione come il Carnevale? Ma i Carnevali sono sempre molto interessanti. Devo dire che questo di Fano non lo conoscevo. Conoscevo molto bene Fano perché ero stato nel 60, nel 70, nell'80 a fotografare per il Tour in Club Italiano. Il Carnevale è un po' una sorpresa perché ne avevo sempre sentito parlare ma non l'avevo mai visto. E adesso vedrò cosa succede. Dal punto di vista di un fotografo il Carnevale che occasione rappresenta? Che cosa potrebbe rappresentare? Ma dipende da Carnevale a Carnevale. Devo dire che il Carnevale di Venezia non mi piace molto. Da veneziano e anche da fotografo. Perché non mi piacciono i Carnevali che l'uomo non si vede. Perché ci hanno solo le maschere e sembra tutto finto. Mentre io ho fotografato molto il Carnevale di Monaco, di Baviera, che a Monaco per esempio è proibito mettere le maschere. Puoi mettere i costumi, puoi agghindarti come vuoi ma non devi... Ed è molto più umano, più vero. Però vedremo questo sarà una sorpresa forse. Quindi ricercherà l'umanità, l'anima umana del Carnevale. Beh io come fotografo di rapportaggio cerco sempre l'uomo. Allora l'atto insomma un po' conclusivo di tutto quello che è stato il volume enorme di fotografie scattate in questo Carnevale. Voi vi siete posti l'obiettivo di cercare la migliore di tutte. Sì, come dice il maestro Gianni Berengo Gardin, la più buona. Perché quello che cercheremo non sono fotografie perfette dal punto di vista tecnico, ma fotografie che dicano qualcosa. In particolare col fatto che siamo al Carnevale di Fano, quello che devono raccontare è l'umanità del Carnevale. Che è un fatto assolutamente importante. E sotto l'occhio vigile del maestro Gianni Berengo Gardin è iniziata l'opera di selezione di questo atto conclusivo del Carnevale 2016. Ovvero sia cercare il miglior scatto di questo Carnevale che immortali e incarni l'essenza e l'animo umano di questa edizione 2016 così ben riuscita e così imponente per i numeri. Questa sera poi la decisione finale è il vincitore che sarà naturalmente annunciato dalla giuria.